Mi occupo di regia, produzione di documentari e comunque mi occupo di audiovisivo. Il triennale era nel 2006, la specialistica nel 2009 e il dottorato di ricerca nel 2012, sempre qua. Ho fatto scienze della comunicazione, poi cinema tv e new media e ho fatto il dottorato di ricerca in comunicazione e nuove tecnologie. Mi porto dietro il ricordo di tanti incontri. Questa è un'università che ti fa conoscere non solo materie ma anche persone e le persone sono preziosissime. Ci sono vari aneddoti. La mia prima produzione fu fatta a Residence dove sono stato per molti anni, a Residence dell'Università Yulma e la facciamo per Caminsun Television con alcuni miei coinquilini. Fu la mia prima cosa fatta in assoluto, era il 2005, sembra una vita fa, però è avvenuta qui. Di essere molto convinto di quello che vuole fare, di non smettere neanche per un istante di provare a farlo perché è la resistenza e l'intraprendenza che portano avanti i sogni e non bisogna mai scoraggiarsi.